Buon venerdì 29 dicembre. Ieri ho dedicato tutta la puntata al Libano, oggi invece ripartiamo dal luogo centrale di tutta questa storia, ovvero Gaza. Nelle ultime 24 ore sono almeno 187, almeno, le persone uccise dagli attacchi israeliani nella striscia. Tra questi spicca un bombardamento a Rafah, nell'estremo sud della striscia, una zona che ufficialmente dovrebbe essere sicura. Qui almeno 20 persone sono state uccise e 55 ferite vicino all'ospedale queitiano, dove è stato distrutto un edificio residenziale pieno di persone sfollate. I combattimenti in questi ultimi giorni si concentrano nelle aree centrali della striscia, dove le forze israeliane hanno ordinato ai civili di allontanarsi negli ultimi giorni, mentre i loro carri armati avanzavano verso il centro. Diciamo che decine di migliaia di persone hanno dovuto lasciare il loro territorio scappando dai distretti di Nuseirat, Burej e Marasi e si sono diretti verso la città di Deirelbalah, lungo la costa mediterranea, che è già schiacciata da numeri di sfollati ben superiori alla capacità di accoglienza e quindi nascono tendopoli improvvisate. A proposito del campo profughi di Marasi, dove almeno 100 persone sono state uccise da un bombardamento nel giorno di Natale, l'esercito israeliano ha detto di essere rammaricato del danno e che il tipo di munizioni non corrispondeva alla natura dell'attacco, causando ingenti danni collaterali. Un linguaggio cinico, se mi permettete, a cui ormai ci siamo abituati, anche se non dovremmo in alcun modo considerarlo normale. Oggi quando parliamo di attacchi dobbiamo riferirci anche alla Siria. Infatti ieri Israele ha condotto un attacco aereo nella periferia di Damasco, colpendo ancora una volta l'aeroporto, oltre a una base di difesa aerea dell'esercito siriano e invece più nel sud-ovest una stazione radar nell'area di Tel al-Sahran, nella provincia di Sueda, appunto sud-ovest siriano. Anche a questo paradossalmente ci si abitua soprattutto chi vive in Siria e dice sì, hanno colpito un'altra volta l'aeroporto. Anche questo però non dovrebbe essere considerabile normale. In Cisgiordania invece, così andiamo avanti con la carrellata, dove Hamas non è al governo, i palestinesi uccisi da attacchi israeliani sono arrivati a 300. Al Jazeera racconta oggi che due dei suoi giornalisti sono stati aggrediti e feriti dai soldati israeliani non lontano dalla città di Hebron. L'attuale crisi è considerata dal Comitato per la protezione dei giornalisti, il CPJ, come il conflitto più mortale per i giornalisti da quando vengono raccolti dati, ovvero dal 1992. 69 giornalisti sono stati uccisi tra Palestina e Libano, 3 sono dispersi, 20 detenuti da Israele. E parliamo di dati che non tengono conto di figure come fixer e autisti che sono spesso tra le prime vittime nelle guerre quando si parla di informazione e diciamo in queste statistiche valgono un po' di meno, non è giusto. In Libano ancora una giornata di attacchi molto duri da parte di Israele nel sud del paese e al tempo stesso di risposte altrettanto dure da parte di Hezbollah verso le caserne israeliane sul confine. A riprova che la tensione continua a crescere, un membro del Consiglio Centrale di Hezbollah, Nabil Kauk, ha affermato oggi che qualsiasi attacco contro le case in Libano avrà conseguenze e che qualsiasi attacco contro i civili si tradurrà in una risposta rapida e dura da parte di Hezbollah. Sempre oggi Hassan Ezzedin, deputato invece di Hezbollah, ha dichiarato che coloro che chiedono il ritiro del partito a nord del fiume Illitani seguono gli interessi israeliani. Ricorderete, abbiamo parlato ieri e sabato scorso delle richieste israeliane di ritiro di Hezbollah dai villaggi di confine libanesi, richieste sempre rimandate al mittente anche da una parte della comunità internazionale. Ci sono invece trattative che ripartono. Una delegazione di Hamas è oggi al Cairo, in Egitto, per esaminare un piano egiziano per un cessato il fuoco a lungo termine. Il piano è stato presentato la settimana scorsa ai funzionari di Hamas e del gruppo palestinese jihad islamico. E' un piano in tre fasi, provo rapidamente a illustrarlo. Prevede prima di tutto dei cessati il fuoco rinnovabili, quindi delle tregue come quelle che abbiamo visto a fine novembre, un rilascio scaglionato degli ostaggi detenuti da Hamas in cambio di detenuti palestinesi in Israele e infine un cessato il fuoco definitivo, questo sul campo. E poi politicamente prevede un governo tecnico palestinese che coinvolga tutti i partiti palestinesi e che sarebbe responsabile del governo e della ricostruzione nella Gaza del dopoguerra. Hamas recandosi al Cairo ha presentato alcune osservazioni. In particolare si discute delle modalità degli scambi previsti, il numero di detenuti palestinesi da liberare e soprattutto sulle garanzie di un completo ritiro militare israeliano da Gaza. Difficile onestamente che vada in porto questo accordo in questo momento. E invece parliamo rapidamente dei festeggiamenti di fine anno. Ovviamente non riguarda Gaza, non riguarda moltissime aree che abbiamo citato, ma ci sono alcuni paesi anche un po' più lontani che hanno preso delle decisioni interessanti. Il Pakistan infatti è il primo paese a vietare i festeggiamenti di Capodanno per mostrare solidarietà ai palestinesi di Gaza, lo riferisce France Press. Il primo ministro Anwalulak Kakar ha invitato le persone alla semplicità e alla frugalità e ha vietato ogni tipo di evento relativo alle celebrazioni del nuovo anno. Ricordiamo che in Pakistan il Capodanno viene solitamente celebrato in modo abbastanza chiassoso, quindi è un'imposizione molto dura. E anche Sharjah, un emirato degli Emirati Arabi Uniti, ha vietato i fuochi d'artificio di Capodanno proprio in solidarietà ai palestinesi di Gaza. Sono piccoli segnali, ma segnali che la causa palestinese o la questione palestinese è tornata effettivamente al centro della scena. E speriamo onestamente adesso al netto della tragedia umanitaria a cui assistiamo ormai da più di 80 giorni, o se vogliamo da 56 anni, ecco speriamo che rimanga al centro, perché prima del 7 ottobre di questa questione in molti ci eravamo dimenticati. E questo ha fatto sì che le condizioni materiali alla base di questa crisi non smettessero di aggravarsi, aggravarsi ancora fino a questa nuova esplosione. Ci risentiamo domani, ultima puntata dell'anno, sempre con gli occhi aperti su Gaza, sul Libano e su tutta la regione.